il panorama scooteristico è sempre più vasto di scelte da dover affrontare con la giusta attenzione beh in questo caso sim dà una forte risposta all'esigenza di avere uno scooter che possa associare la comodità di un maxi a quelle che sono delle doti un po più adventure sim adx 300 andiamolo quindi a provare insieme in questo primo contatto un'estetica aggressiva che strizza l'occhio soprattutto le moto adventure nel tre quarti anteriore becco pronunciato presenza di un manubrio tubolare così come i paramani stile off road nella parte alta il parabrezza è stretto con un trattamento in colorazione nero fumè le forme sono tagliate e ne zelliscono tanto i suoi volumi sella ampia accogliente anche per un altro occupante noi il rider siamo dal suolo a 790 mm dal punto di vista tecnico le soluzioni impiegate sono allineate alle rivali di stessa categoria all'anteriore troviamo una forcella steli tradizionali con un'escursione da 125 mm al posteriore c'è un doppio ammortizzatore l'impianto frenante è affiancato dall'abs singolo il disco davanti 260 mm così come singolo quello al posteriore di dimensioni più contenute una volta saliti in sella a questo adx 300 di sim notiamo subito la principale caratteristica della seduta ovvero il nostro fondoschiena è perfettamente collocato all'interno della sella come se ci fosse una predisposizione tale da indicarci quella che sarà la nostra posizione per tutto il tempo del suo utilizzo qui sui colli del piacentino stiamo anche testando ovviamente le sue doti soprattutto su un manto stradale viscido umido come in questo caso di coppia ne abbiamo a sufficienza lui è molto agile data anche la presenza della scelta dei cerchi all'anteriore da 15 al posteriore da 14 con una gommatura che ci ha permesso appunto di poter avere un ottimo grip anche sui tornanti come in questo caso più viscidi e scivolosi l'impianto frenante è veramente buono abbiamo un ottimo mordente sia all'anteriore che al posteriore ben modulabile e soprattutto riusciamo tranquillamente ad avere una buona visibilità dietro grazie alla presenza degli specchietti molto ampi certo dovremo dedicare un po di tempo alla loro regolazione ma senza alcun tipo di principale fastidio la nebbia quest'oggi sui colli piacentini è veramente fittissima ma non ci sta impedendo di provare e testare tutte le doti di guida di questo adx 300 come in questo caso appunto un asfalto del tutto sdrucciorevole molto sporco proprio per mettere alla prova quelle che sono le caratteristiche adx di conseguenza adventure di questo scooter dal motore veramente ebrioso rotondo con un'erogazione progressiva data appunto da questa coppia di 26 newton metro e 26 cavalli a spingerlo il manubrio della giusta dimensione è rivolto verso il rider unico aspetto negativo abbiamo un angolo di piega in negativo del ginocchio leggermente fastidioso io sono alto circa un metro 85 qualcosa di più e trovo una posizione delle pedane leggermente più alta rispetto a quanto la vorrei il parabrezza ha una forma abbastanza regolare e una dimensione tutto sommato ragionevole riusciamo ad avere una buona protezione dai flusci aerodinamici fin poco sotto il casco ad aiutarlo per la nostra protezione ci pensano anche i paramani che in questo caso vanno anche a proteggerci dai sassi che potremmo prendere in questo tratto off road dove ad x 300 se la cava tutto sommato bene andando quindi a confermare quelle che possono essere le sue doti di leggerissimo off road ovviamente l'escursione all'anteriore è contenuta parliamo di circa 120 mm mentre per quello che riguarda il posteriore abbiamo un doppio ammortizzatore ovviamente sarebbe stato tutt'altra storia trovare una forcella a steli rovesciati regolabile ma non è questo il suo caso la manopola del gas ha un'ottima progressione nella mano e riusciamo a modulare tranquillamente l'accelerazione mentre l'impianto frenante sia avanti che dietro riesce tranquillamente a gestire la potenza e la mole di questo scooter che ricordiamo è di 206 chili a secco tutto sommato non leggerissimo a sostenere la mole del mezzo abbiamo un telaio tubolare in acciaio nel quale poi è stato collocato il propulsore un motore da 278 centimetri cubici da ben 26 cavalli e 26 newton metro di coppia intelligente poi la posizione in cui è stato collocato il serbatoio sotto di noi tra le gambe troviamo una capacità di ben 16 litri che ci permetterà una percorrenza veramente infinita a chiudere il cerchio la calzata che va su pneumatico all'anteriore 120 70 e al posteriore 140 70 per nulla scontata la presenza oltre all'abs anche del traction control e anche qui in quest'altro tratto di off road riusciamo tranquillamente a gestire la dx 300 per quanto appunto lui sia uno scooter e non una moto adventure il comportamento è veramente ineccepibile altro passaggio su una buca comportamento ottimo sicuramente nel contesto cittadino supererà senza alcun tipo di problema qualunque tipo di imprevisto la nostra rapida prova è purtroppo terminata 4699 euro franco concessionario è questo il prezzo di partenza per portarsi a casa il nuovo sim adx 300 e voi cosa ne pensate fatecelo sapere qui sotto nei commenti iscrivetevi ovviamente al nostro canale attivando anche la campanellina delle notifiche e soprattutto seguitici anche sugli altri nostri social il nome è semplice ed è we drive.tv grazie a tutti